Procopio dov'è? Che cosa sta succedendo? Ragazzi, abbiamo avuto un problema serio, purtroppo l'istruttore è caduto in acqua e stava a Fuganna L'istruttore è di nuovo Ma pure non va Ma è massaggio cardiaco, dai Ma sappiano Questo non va più bene, Peppe, non è andato bene, ci servirebbe un altro istruttore Ma lo vediamo E io devo continuare a fare i provini Sì, ma non è che prendiamo l'istruttore Avanti il prossimo Buonasera, lei Nooo Sì Buonasera Ma come istruttore, sì Nooo Ma non può essere, non è possibile No, io vedo che fisicamente è meglio per tre channel Ma che cosa dici? Ma no Potrei fare una prova di nuoto, però Guardi, io non le posso dare più di tre euro al mese, però Ma sì, ne va bene, ne va bene Ma Francesco, ma hai capito chi è? No, chi è? È Ralbova Fallocresì